Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e oggi voglio parlarvi di un qualcosa che ho ascoltato ieri in un video di formazione di un leader del mio network. Già conoscevo questa cosa, quest'ambito, praticamente era la piramide di Maslow, ossia la piramide dei bisogni dell'essere umano, che poi è stata rivisitata e, diciamo, aggiornata e resa un po' più concreta da uno, dal top leader, dal top formatore, non so come chiamarlo, insomma, Tony Robbins, dovreste conoscerlo un po' tutto, se non lo conoscete andate a cercare su internet, ragazzi, è il top per quanto riguarda la formazione e la crescita personale al mondo. Ma andiamo a parlare di questa piramide che poi, la piramide era stata creata con un, diciamo, una scaletta che, secondo Maslow, erano i bisogni, insomma, messi in base alle necessità umane. Però, realmente, Tony Robbins ha studiato e ha poi portato alla luce che ogni uomo essere umano ha diverse scale dei valori e quindi questi sei bisogni che un essere umano ha determinano poi il carattere e anche le azioni, determinano, insomma, la vita in generale della persona. Ve li vado a elencare, sono sei, ma non sono in ordine né personale né, insomma, di importanza. Allora, la sicurezza è il primo. Il primo, parliamo della sicurezza, quindi potrebbe essere sicurezza finanziaria, sicurezza, diciamo, anche della vita in generale, come può essere sicurezza di avere uno smartphone perché ti fa sentire più sicuro, sicurezza di avere un fisico più prestante e ti fa sentire più sicuro di te stesso, la sicurezza nel, diciamo, nel parlare perché sai di aver studiato e di avere una determinata importanza, la sicurezza di stare in mezzo alla gente perché ti senti qualcuno, ti senti una persona che ha da poter dare e avere un suo background. Questo, diciamo, è la sicurezza sotto forma di bisogno. Poi c'è la varietà. La varietà che cos'è? Ossia la voglia di poter cambiare sempre le cose, di avere nuovi stimoli, di avere nuovi, diciamo, giocattoli, di avere sempre novità nella nostra vita per cercare di non avere una vita piatta ma di fare, insomma, questo. Perché la vita è giusto che sia alto, basso, alto, basso. Sperando sempre che il basso non vada a finire nel sotto zero, questa è una cosa importante. Però, insomma, la varietà è un'altra di quelle cose che può formare il carattere di una persona e che è uno dei bisogni più importanti per quanto riguarda l'essere umano. Poi l'importanza. L'importanza è un qualcosa che è, diciamo, soggettivo perché ognuno può essere importante in una qualsiasi cosa. Ossia può essere importante per la propria famiglia, può essere importante per il loro proprio posto di lavoro, può essere importante per la società, può essere importante per la sua schiera di amicizie, la sua schiera di conoscenze e quindi può essere importante, diciamo, anche come essere di fiducia. Insomma, è importante perché sai che, mi sa che l'ho già detto prima, per esempio un amico si fida di te e quindi ti chiede un'opinione. Questa è importanza. Anche l'importanza è nel sentirsi qualcuno come formatore, come youtuber, come qualcuno che vuole dire la sua e quindi per dire la sua fa un video, come lo sto facendo per esempio io, e quindi vuole sentirsi importante. Infatti è una delle cose che, uno dei bisogni della mia persona. Il sentirsi importante, che poi logicamente varia, non è sicuramente al primo posto, anzi, però è uno dei bisogni del mio carattere, insomma, della mia persona. Poi c'è l'amore. L'amore può essere determinato come amore verso una persona, amore verso, diciamo, un qualcosa, quindi una situazione ben precisa come può essere il lavoro. Amore può essere definito come una passione per uno sport, una passione per, anche per, come vi ho detto prima, per il lavoro. Insomma, l'amore ha diverse sfaccettature. Può essere anche l'amore del voler bene a un amico, l'amore del voler bene alla propria fidanzata, alla propria moglie, ai propri figli, ai propri genitori. E questo è, diciamo, l'amore, ragazzi, inutile stare a dire, dovrebbe essere una delle prime cose all'interno della, diciamo, della nostra sfera delle necessità. Perché se voi ci pensate, spesso e volentieri, chi va a innovare, chi va a creare un futuro, lo fa prima di tutto per sentirsi importante per se stesso, ma anche per chi ama. Perché alla fine se fate un milione di dollari, due milioni di euro, tre milioni di euro, sappiate che se siete nati, a meno che se non siete pazzi, se siete nati in una famiglia normale, modesta come la mia, insomma, due milioni, tre milioni di euro vi bastano per la vostra e per la vita dei vostri figli tranquillamente. Poi è logico che uno non si deve mai fermare, non si deve mai accontentare, però è anche questo è vero. Poi c'è la crescita, la crescita personale, la crescita può essere nel campo sempre lavorativo, nel campo sentimentale, quindi da amico a fidanzata, da fidanzata a marito o moglie, da marito a moglie a crearsi una famiglia, a diventare un genitore, ad essere un nonno, ad essere uno zio, insomma, quella è anche una crescita. O può essere una crescita personale come conoscenza, quindi studiare, imparare, partecipare a corsi di formazione, partecipare a seminari, partecipare a mastermind, partecipare con lettura di libri universitari o corsi universitari, o anche solo corsi di formazione professionale, insomma ci sono tante crescite, tante tipologie di crescere, tanti modi soprattutto di crescere, anche fare errori e crescere, e quindi una persona spesso mira a fare errori proprio per crescere. Ora, non so dicendo che uno fa un errore perché vuole crescere, perché sarebbe una stupidaggine, però insomma ci sono le persone che preferiscono osare per fare errori per poter crescere, questo è uno dei bisogni principali, uno dei sei bisogni. E ultimo, ma non ultimo, per importanza, la contribuzione. Bene, la contribuzione è una di quelle cose che muove tanta gente, per esempio muove me. Io ho fatto, diciamo, si chiama test dell'epitaffio. Test dell'epitaffio sarebbe ciò che vuoi che venga scritto sulla tua lapide, diciamo. Ho detto bene dell'epitaffio, si dovrebbe essere giusto. Ciò che vuoi che venga scritto sulla tua lapide, ossia nel momento in cui voi morirete, cosa volete che venga detto quando vi venite ricordati? Ah sì, era il padre di... ah sì, aveva una vita così... ah sì, oppure... Per esempio, prendiamo l'esempio di Elon Musk, perché adesso sto leggendo il suo libro della sua vita, verrà ricordato per colui che ha costruito la prima macchina elettrica commerciale, per colui che ha costruito PayPal, quindi la prima banca online, quindi metodi di pagamento rapidi sempre comunita, la persona che ha costruito Zip2, che sarebbe una specie, una predecessore di Google Map, la persona che ha creato, insomma, nuovi metodi di trasporto, ha creato per fortuna le Gigafactory, ossia quelle fattorie, diciamo, piene di pannelli solari, che danno la possibilità di creare elettricità dal sole, quella per esempio è un metodo di contribuire sia logicamente ai propri figli, ma soprattutto all'essere umano, all'esistenza, al cambiare qualcosa della propria vita. Io per esempio voglio che nel momento in cui debba morire, e quindi questo si tratta tra tantissimi anni perché per arrivare al mio obiettivo ci vogliono veramente tanti anni, il mio obiettivo è essere ricordato per colui che ha contribuito a formare delle persone, ad aprire la testa, gli occhi a delle persone, grazie ai propri sbagli, grazie ai propri studi e ha, diciamo, smosso le masse a cambiare il proprio stile di vita, a trovare uno stile di vita economico e, logicamente, di vita in generale, che pagasse e appagasse la persona in sé per sé. Inoltre con questi video, sapete benissimo, lo faccio anche per una divulgazione personale, perché diciamo che è un mastermind con me stesso. Questi video per me sono un punto, nel momento in cui li faccio, dico, ok, oggi sono arrivato, ieri ero qui, oggi sono arrivato qui, perché ho studiato, ho scoperto, mi sono informato e ho seguito determinati passi che mi hanno portato dal punto A al punto B. Ogni video è, diciamo, il punto finale di un percorso di formazione, di crescita, che è legato all'amore che provo per la mia famiglia e per la mia ragazza, che poi, logicamente, col tempo sposerò e quant'altro, e quindi avrò la possibilità di dargli una vita migliore, e grazie, logicamente, alla sicurezza economica, quindi questo mi darà sempre un aiuto per portare la mia persona a crescere, anche come persona di formazione o come persona che sa parlare e vendersi alle altre persone. Tramite questo avrò una sicurezza economica che mi darà la possibilità di diventare una persona più importante, logicamente, ma che mi darà la possibilità di contribuire ad aiutare le altre persone, perché è questo che vorrei che diventasse, diciamo, il mio lavoro del futuro, e che mi porti, logicamente, ad avere una varietà di conoscenze e di posti e di argomenti da trattare che mi porti a vivere in maniera sempre innovativa, sempre in maniera dinamica e mai statica. Ecco, per esempio, adesso ho unito tutte e sei le necessità dell'uomo dentro la mia persona, la persona di Davide Vasco. Bene ragazzi, allora, grazie per aver visto questo video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account steemit davide.vasco. vi ricordo di condividere il video e ci vediamo alla prossima video che sarà domani, spero su CryptoValute, adesso sono un po' in macchina, torno a casa e a domani, ciao!